Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video su svuota la spesa, perché ho comprato un po' di cose, ma niente di esageratamente complicato, praticamente hanno fatto la spesa solamente i miei figli e adesso vi mostro, allora, fette biscottate, croissant e cereali. Poi abbiamo preso della carta igienica e della carta assorbente per la cucina, poi ho preso due confezioni di uova, un pacco di farina, mio figlio che si prende sempre gli aperitivi non possono mancare, un pacco di mozzarella, Poi ho preso queste antipasto, questi condimenti per pasta e riso, questi mi servono tutti per fare le insalate di riso e di pasta, una bottiglia di olio, succo alle olive, un altro condimento per riso e un barattolo di marmellata, una bottiglia di olio per friggere e una bottiglia di olio e di semi di magno. Poi ho preso dei fiori di zucca, una confezione di comorino, una confezione di oster, del salmone scottese, della feta, del turino, una confezione di pezzo e delle trofie fresche. Poi il mio figlio per l'aperitivo ho preso delle pezzettine alla paprika, poi sempre in reparto a colazione, dei panini al latte, la trezza che ci piace tantissimo, biscotti tipo Oreo, Pianzatine a rosmarino, griffini torinesi, ciuzzicine o crocatelle o come le potete chiamare, gelette di mais, cracker di riso e teradini. Poi ancora, dei germogli di soia, del mais, due confezioni di oliva nere, del pomodoro a pezzetti, questo ci piace tantissimo, altri suoi, il sugo con la pasticcia, sugo con le vongole e sugo al basilico. Io di più che non prendo mai subito pronti, capisco farli, però a questa volta, siccome non voglio tenere il frigo troppo pieno, avevo bisogno di, come ho preso pronti. E poi ho preso, con le confezioni di tonno al naturale, è un altro condimento. E infine, nell'ultimo busto abbiamo, dei cracker iniziate da mio marito, della quinoa, due confezioni di spaghetti, due confezioni di gnocchetti, una confezione di bulgur e quinoa, una confezione di mezzemaniche, una confezione di farfalle, una confezione di cipre legate, una confezione di gnocchetti più grandi, una confezione di mezzepenne e una confezione di fusilli. E per ultimo, una confezione di riso per insalate. Bene, io con questo video è terminato, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!